I C-Jet ci ripensa e dopo la campagna denigratoria apparsa sul sito ufficiale della compagnia britannica in cui si parlava della Calabria come terra di terremoti e mafia, ecco che ha preso il via una stagione promozionale con la quale decide di cambiare rotta e il vento ora soffia a favore della nostra regione. Infatti tutti i voli da e per la mezza termine avranno uno sconto pari al 30%, come già avevamo dato notizia qualche giorno addietro. Va da sé che in tale prezzo non è incluso il bagaglio da stiva nella scelta del posto. Nel caso in cui, a causa imprevisti dovuti alla pandemia Covid-19, il volo non dovesse essere effettuato, ecco che sarà possibile spostare tale volo in qualunque data e verso qualsiasi destinazione, senza pagarli alcuna differenza né sovrapprezzi aggiuntivi, esclusi i voli da e per Egitto, Giordania, Turchia, Marocco e Israele. I voli in vendita allo stato attuale sono fissati fino al mese di maggio 2021. In alternativa sarà possibile richiedere un voucher dello stesso importo del biglietto acquistato, da utilizzare secondo le proprie esigenze e avrà la validità di 12 mesi dalla data di emissione.